Benvenuti in Zodiac. Nel lontano 1882, Ariste Calame, figlio di un orologiaio, creò il primo orologio Zodiac, un orologio da tasca unico nel suo genere. Questo evento segnò l'inizio di un percorso straordinario che avrebbe posizionato Zodiac come uno dei protagonisti nel mondo degli orologi svizzeri. L'anno 1908 segna una tappa significativa nella storia di Zodiac, quando Ariste Calame brevetta il nome Zodiac come marchio. Da questo momento, l'azienda inizia a produrre i propri calibri e movimenti, diventando un'autentica pioniera nel settore orologero. Il Super Sea Wolf è uno degli orologi più iconici di Zodiac, riconosciuto per la sua robustezza e resistenza alle profondità del mare. Il design distintivo della lunetta girevole e la luminosità straordinaria delle lancette e degli indici superluminovalo rendono un compagno affidabile per gli amanti delle immersioni. Nel corso degli anni, il Super Sea Wolf ha continuato a evolversi, mantenendo la sua essenza originale e consolidando la sua posizione come un'icona tra gli orologi subacquei. Zodiac Watch, oltre a distinguersi come pilastro dell'orologeria svizzera, ha raggiunto l'immortalità cinematografica, grazie al suo ruolo chiave nel film del 2007, Zodiac. Dove il killer, in una delle lettere, minaccia di attaccare un autobus scolastico, specificando che indosserà un orologio Zodiac come firma. Questo particolare dettaglio mette in risalto la riconoscibilità e la notorietà del marchio Zodiac. Il film Zodiac ha contribuito a consolidare l'immagine di Zodiac Watch nell'immaginario collettivo. Questo ha avuto un impatto significativo sulla percezione del marchio, generando un interesse rinnovato per la sua storia e i suoi modelli conci.